Buongiorno a tutti e ciao! Oggi vediamo il tutorial di Tiger Ball, questo bellissimo gioco. Allora, lo scopo è buttare questa palla tigrata in quel contenitore che ruota, lo vedete? Andate, ecco qui. Oh, è andata. Adesso un altro livello con quattro cubi, un po' più difficile. E ecco qui, è andata anche questa. Il gioco è molto carino e fa perdere molto tempo. In alto a sinistra possiamo vedere le vite nel nostro cuoricino. Vedete? In quel cuoricino rosso lì sopra ci sono le vite. Io adesso ho quattro vite. Vediamo che livello. Ecco, questo è semplice, basta andare in avanti. Ecco qui. È un gioco di intelligenza e che bisogna vedere nel futuro. Allora, questo devo prendere il muro a destra. Vediamo che funziona. Eeeh, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho due vite adesso. Vediamo se ci riesco. No, niente. Proviamo di nuovo. Ecco qui. È andata. Ho solo una vita. Questo livello è un po' più difficile. Livello 8. Allora, vediamo. No, niente. Niente da fare. Vediamo l'ultima vita. Possiamo aggiungere anche una vita guardando un video. Però, io ho perso. Niente da fare. Vediamo se mi da un'altra vita. Adesso sceglie random il pollice su o il pollice giù. Vediamo. Eeeh, niente. Ho perso. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti.